Ciao a tutti! Oggi prepareremo il frappè alla nutella con panna montata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 8 minuti circa. Gli ingredienti sono nutella, latte, panna e zucchero. Andiamo in via la ricetta. Adesso andiamo a polverizzare lo zucchero per 10 secondi, velocità a 10. Prendiamo sul fondo lo zucchero. Aggiungiamo la farfalla. Mettiamo la vanna. Mettiamo il coperchio senza il misurino. E andiamo a montarla per 3 minuti a velocità a 3 minuti. La nostra panna è perfettamente montata. Andiamo a metterla da parte in una ciotola per preparare il nostro frappè. Senza sciacquare il boccale andiamo a riposizionarlo nel bimbi. Andiamo a mettere il latte. Andiamo ad aggiungere la nutella. e facciamo andare il bimbi per 30 secondi a velocità a 7 minuti. e facciamo andare il bimbi per 1 minuto. A velocità a 2 minuti. E facciamo andare il bimbi a 4 minuti. Il nostro frappè è pronto. Andiamo a metterlo in un bicchiere. Frappè alla nutella con panna. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie a tutti.